Non sono il tipo che sa stare zitto, sicuro è che ti parlerei. Sento una voce da un messaggio scritto, vuoi condividerlo con me? Se fossero le storie a tenerci connessi, sentire una voce anche a chilometri da te. Se chiudessimo gli occhi non saremmo diversi, vedi? Apri gli occhi che c'è un posto per te, apri gli occhi che c'è un mondo per te. Il mondo è fatto per connettersi. Cop Voce, libera la tua voce.